Musica Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale movimentata Assemblea regionale del PDA Isernia con diversi temi caldi sul tavolo ci dice tutto Enzo Di Gaetano Acqua è agitatissima Isernia all'Assemblea regionale del PD convocata per la prima volta dopo l'elezione della Fanelli e rinviata quando la Presidenza ha inserito decine di interventi prima di quelli di Ruta e Leva a questo punto si è deciso di rinviare i lavori di 15 giorni per un nuovo appuntamento, questa volta in Basso Molise ad aprire il fuoco contro l'attuale segreteria il parlamentare Danilo Leva che è stato protagonista di una durissima contestazione sulla stessa gestione dell'Assemblea tanto da provocare a più riprese l'intervento della Venitelli per ristabilire l'ordine è venuto platealmente fuori che il PD molisano è un partito profondamente spaccato e diviso lacerato da mille contrasti interni è bastato sentire Danilo Leva che ha platealmente bocciato frattura parlando già di una candidatura alternativa alle primarie per il prossimo Presidente della Regione metteremo in campo una candidatura alternativa rispetto a ciò che c'è stato fino ad ora che mi pare, basta chiederlo ai molisani non a Danilo Leva noi siamo altra cosa rispetto a quello a cui abbiamo assistito in questi mesi dai trasporti alla sanità ripeto al lavoro io dico rispetto alle nomine ultime del 31 dicembre noi c'eravamo candidati per fare altro mi pare che Michele Iorio cioè non è che può essere una giustificazione quella di aver speso meno soldi di Michele Iorio il tema è che il centro-sinistra non doveva fare né nomine né consulenza doveva cambiarla questa Regione rispetto a questo che chiediamo uno scatto d'orgoglio ma è rispetto a questo che noi costruiamo anche legittimamente credo un'alternativa la segretaria regionale Michela Fanelli dal suo canto ha accuratamente evitato le polemiche parlando di un partito che deve ritrovare l'unità abbiamo opinioni diverse notoriamente noi le ricomponiamo abbiamo questa forza e questa capacità sempre siamo un grandissimo partito anche per quello ci sono varie voci e su questo la democrazia la bellezza della democrazia vuole che le esprimiamo anche in correttezza presente ai lavori anche Petra Roia che ha confermato di aver rimesso al partito ogni decisione sulla sua permanenza in giunta e ha chiesto la presenza nell'esecutivo di un assessore renziano se oggi l'area renziana correttamente in maniera coerente, lineare rivendica una presenza in giunta questo è un fatto politico che va vissuto in democrazia in maniera corretta facendo gli auguri di buon lavoro ai nuovi assessori e mettendosi al servizio del partito anche svolgendo senza drammi un altro ruolo e infine il presidente Frattura che per la giunta ha ammesso che ci saranno fibrillazioni nel PD e ha anche chiuso la porta in faccia a Vincenzo Niro mi pare che il PD abbia chiarito che si aspetta la doppia rappresentanza in giunta regionale questo evidentemente creerà qualche fibrillazione all'interno del centro-sinistra ma mi pare che sugli accordi pre-elettorali la doppia rappresentanza del PD c'è tutta Vincenzo Niro e c'è pure un altro contrattino io ho parlato di fibrillazioni i contrattini solitamente si fanno in ambito commerciale c'era un accordo preventivamente sottoscritto con Vincenzo Niro che però è stato superato quando la partecipazione dei moderati si è allargata non abbiamo avuto soltanto l'alleanza dell'Udeur nel centro-sinistra che ha vinto le elezioni ma c'è stato anche rialza di Molise mi pare che Vincenzo Niro sia stato per due anni e mezzo presidente del Consiglio per la seconda parte del Consiglio il presidente è Vincenzo Cotugno è sempre nel segno del dissenso interno da segnalare la clamorosa assenza ai lavori di Isernia di Cosmo, tedeschi responsabile regionale economico del PD Reazione scomposta del presidente frattura alle critiche sulla sventagliata di nomine consulenze di fine anno sotto accusa il presidente il cerchio magico di stretta osservanza che lo circonda sentiamo Pasquale Di Bello nomine e consulenze insieme a Babbo Natale e alla Befana nei cieli del Molise è stato avvistato anche il presidente frattura a differenza però degli illustri colleghi i cui regali hanno carattere democratico e giungono di fatto a tutti le regalie di frattura mascherate da incarichi e consulenze arrivano esclusivamente al cerchio più tragico che magico di cui ormai da tre anni si circonda una sventagliata di nomine a favore dei soliti amici compagni si fa per dire e compagni degli amici circa 500.000 euro sottratti dalle tasche dei molisani e messi nelle borsette e nei marsupi di una sinistra al sidol che col pretesto di lucidarlo al nuovo ha letteralmente occupato il Molise alla denuncia dell'ennesimo scandalo il presidente ha replicato con una sua nota più che un comunicato stampa quello di frattura è apparso un vero e proprio attacco d'asma quello di chi ormai a corto di fiato e di argomenti non trova di meglio che sferrare l'ennesimo attacco all'informazione frattura è letteralmente ossessionato da quella che egli chiama certa stampa e che in realtà è l'unica stampa degna di questo nome quella che quotidianamente mette a nudo le malefatte del potere politico e che di malefatte si tratti non è solo la stampa a dirlo voci critiche e feroci si levano anche all'interno del partito democratico ne è una prova la durissima presa di posizione di alcuni circoli territoriali senza tanti giri di parole gli esponenti di partito condannano la sventagliata di nomine e l'asse frattura Fanelli va ricordato che proprio Fanelli è oggetto di una transazione con la regione Molise un accordo raccapricciante non tanto sul piano formale ma su quello della opportunità politica di mantenere in caldo un posto all'interno del nucleo di valutazione regionale al segretario regionale del partito qualcosa che se fosse avvenuta in passato per restare al ragionamento da torcicollo fatto da frattura avrebbe fatto volare in area gli stracci di una sinistra che nei fatti si è rivelata più stracciona degli altri la nota d'asma di frattura in buona sostanza non dice nulla si limita ad un raffronto ragionieristico con le spese passate come se bastasse la minore entità di una malefatta a trasformare il malcostume politico in buona amministrazione ai molisani è ben chiaro che queste bugie non reggono più dire che in passato si è fatto di peggio non significa che oggi si faccia di meglio è l'approccio da clan quello da cerchio magico da oligarchia da camarilla ad essere sotto accusa una visione societaria della regione dove il padrone delle quote nomina a suo piacimento i componenti fedelissimi di un consiglio di amministrazione che ratifica ogni suo desiderata in Molise le bugie non hanno solo le gambe corte ma anche la faccia di chi le racconta e in questo caso quello delle nomine delle consulenze non si può certo dire che il presidente non ce l'abbia messa l'assessore regionale Vittorino Facciolla è stato indagato per la vicenda del suo portaborse vicenda salita alla ribalta nazionale dopo un servizio della trasmissione le Iene e quella inchiesta è stata ora archiviata ad annunciarlo è lo stesso esponente dell'esecutivo a Palazzo Vitale l'indagine è durata circa quattro mesi e mezzo ed è stata portata avanti dalla guardia di finanza di Campobasso l'assessore era stato indagato per concussione truffa e peculato con l'archiviazione adesso ha detto posso urlare al mondo provandolo che non ho mai sottratto abusato per me o per altri della disponibilità di denaro pubblico no secco di sinistra ecologia e libertà nuove alleanze con il partito democratico la decisione che verrà ufficializzata nei prossimi giorni è stata presa a Isernia nel corso di un incontro a cui hanno partecipato il segretario regionale D'Angelo e quello provinciale Ferri il servizio di Enzo Di Gaetano nessuna alleanza in vista tra Selle e PD per il momento i responsabili molisani del partito di Nichi Vendola non mostrano alcuna intenzione di far fronte comune con il partito democratico né alle prossime elezioni dei sindaci e neanche a quelle regionali se le cose non muteranno profondamente quello che sconcerta di più i dirigenti di Selle è la capacità del PD molisano di reclutare esponenti della destra senza alcuno scrupolo politico o morale la decisione a Isernia dove si sono incontrati il segretario regionale Gigino D'Angelo la provinciale Saraferri e la base del partito isernino il centrosinistra molisano ai vari livelli ancorché un po' anomalo abbastanza anomalo ha ereditato dal centrodestra una situazione catastrofica ai vari livelli a partire dalla regione passando per il comune di Selle ma ha dimostrato di non saper invertire la tendenza non l'hanno fatto né di Laura Frattura a livello regionale tanto meno Brasile e la Isenia che non è stato capace di reggere la sfida della gestione comunale noi riteniamo che non vi siano ormai più le condizioni per poter collaborare con il PD nostrano Isernia di sprone di ottime energie di personalità che si stanno distinguendo in giustissime battaglie quale la difesa della sanità pubblica sfasciata prima dal centrodestra e il centrosinistra non ha assolutamente ripeto invertito la tendenza anzi poi ci sono personalità che si stanno distinguendo per la difesa dell'ambiente combattendo contro il cosiddetto eolico selvaggio e ci sono anche personalità che si stanno che stanno contrastando il fantomatico l'8-0 che è assolutamente un progetto inattuabile a disegno tutte queste energie insieme a ciò che potrebbe esprimere il Movimento 5 Stelle io credo che messe insieme con umiltà con tenacia possano queste sì costituire per Isernia una vera alternativa e al Partito Democratico ma anche al centrodestra che negli ultimi dieci anni a disegno ha governato malissimo tanto è vero che non sono stati capaci nemmeno di riscuotere il canone dell'acqua Nuova ITR il manager Massimo Supancig ha lasciato la guida dell'azienda nata dall'acquisizione di Oti da parte dell'IKF attraverso il concordato la decisione di lasciare sarebbe stata presa dopo una transazione tra lo stesso Supancig e Mario Galetti presidente di IKF la nuova ITR si sarebbe già messa a caccia di un nuovo amministratore ma al momento c'è incertezza su chi possa ereditare il timorne dell'azienda di Fettoranello la CGL incalza la politica la regione sull'area di crisi e a distanza di 5 mesi dal riconoscimento chiede cosa si stia facendo e perché non si è dato sapere quali programmi da mettere in campo quali le intenzioni dura la UIL con Pasquale Guarracino sulla risoluzione delle vertenze di lavoro ancora aperte sentiamo A inizio agosto il ministero dello sviluppo economico ha riconosciuto l'area di crisi industriale complessa a Campochiaro Venafro si è quindi insediato il tavolo con regione e parti economiche e sociali a novembre la CGL è però considerata la persistente crisi che attanaglia la nostra regione e le tante vertenze ancora irrisolte ha espresso delle preoccupazioni in sostanza il sindacato ha evidenziato come a distanza di mesi non vi sia traccia alcuna di una proposta organica per concludere la procedura entro nove mesi dall'emanazione del decreto di riconoscimento di area di crisi area il cui scopo ha detto il segretario regionale organizzativo del sindacato Franco Spina sta proprio nella velocità e concretezza di rispondere alla criticità straordinaria del territorio in questione in cinque mesi poche dichiarazioni di intenti e niente altro ha aggiunto ma ora occorre conoscere i progetti della regione approfondire le strategie che si vogliono mettere in campo secondo l'accordo stabilito la Cigelle nel sollecitare direttamente la politica spera che ritardo mancata convocazione del tavolo e assenza di proposta non siano dovuti a ripensamenti e riprogrammazioni ma al fatto che si stia individuando come dove agire agroalimentare tessile meccanico ed ile sono comparti con enormi difficoltà per i quali bisogna prevedere investimenti e percorsi di salvaguardia per i lavoratori fuori dalle aziende in crisi per la Cigelle quindi la necessità di un piano organico di sviluppo locale che integri le diverse misure economiche a disposizione è urgente per rilanciare un fragilissimo tessuto economico e produttivo breve ma durissimo e tagliente invece il segretario regionale della Wiltux Pasquale Guarracino che ha chiesto alla politica molisana alla regione se tra affidamenti di incarichi tra amici e amichetti sistemazioni e messe a punto tagliandi nomine di esperti consulenti vari non sia arrivato il momento di risolvere qualche vertenza una donna di 50 anni di Iserni è stata denunciata per lesioni personali e minacce dalla polizia accusata di aver colpito a ombrellate una sua conoscente di 70 anni un'altra Isernina è stata invece rinchiusa nel carcere di Chieti in esecuzione di una condanna a 5 anni per furto e distorsione alcune settimane fa la donna era più volte evasa dai domiciliari mentre in un'occasione aveva tentato anche di forzare un posto di blocco e nell'ambito dei servizi di controllo sul territorio predisposti dalla Questura di Campobasso sono stati emessi 5 fogli di via obbligatoria a carico di altre tante persone provenienti da fuori regione non potranno tornare per i prossimi 3 anni nei comuni di Termoli e Roccavivara perché ritenute responsabili di reati contro il patrimonio e la persona un provvedimento di ammonimento del questore è stato invece emesso a carico di un rumeno accusato di lesioni personali nei confronti di una donna la notizia del permesso di ricerca di petrolio concesso alla PetroCeltic a largo di Termoli e delle isole Tremiti mobilità politica e associazioni si valuta la strada del ricorso e il comitato Trivelle Zero chiede alle istituzioni di non abbandonare la richiesta di referendum sentiamo Fabrizio Occhionero Il permesso di ricerca pubblicato sul bollettino ufficiale degli idrocarburi ha sollevato un'ondata di proteste tra gli amministratori locali e le associazioni che da anni si battono contro le trivellazioni nel mare adriatico il comune di Termoli ribadendo il proprio no ha annunciato la possibilità di impugnare il provvedimento davanti al giudice per tutelare i diritti dei cittadini e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente marino la parlamentare del PD Laura Venitelli segue la strada dell'interrogazione per capire di più rispetto a una decisione che non rispecchia l'orientamento delle regioni contrarie a questo tipo di politica energetica la deputata parla di un evidente cortocircuito tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'asse Governo Parlamento che ha osservato nella legge di stabilità si adoperavano per salvaguardare le coste dal rischio delle trivellazioni del sottosuolo marino la Venitelli punta così a promuovere un atto di sindacato ispettivo verso il provvedimento ministeriale che ha concesso il permesso di ricerca alla società la strada del ricorso contemplata anche nello stesso permesso è sostenuta dal coordinamento Trivelle Zero che in una nota ha ribadito un forte appello a tutte le istituzioni al Parco Nazionale del Gargano soltanto una sentenza del Tar hanno ribadito i comitati può bloccare queste autorizzazioni ma bisogna continuare anche il percorso del referendum che sarebbe imprudente abbandonare in una situazione in continua evoluzione legislativa per il coordinamento Trivelle Zero con questo ricorso gli enti locali possono dimostrare la loro concreta volontà alla lotta contro la petrolizzazione dichiarata ufficialmente con l'adesione alla richiesta di referendum e alla carta di Termoli in difesa dell'Adriatico Intanto l'ufficio della Cassazione ha deciso che solo uno dei quesiti referendari contro le Trivellazioni mantiene i requisiti di conformità in sostanza vengono dichiarati inammissibili referendum che investono norme dello sblocca Italia mentre ammesso quello che riguarda misure del decreto sviluppo sul divieto di trivellazioni per l'estrazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine su questa novità è intervenuto anche il coordinamento nazionale NOTRIV che invierà una diffida al Ministero dello Sviluppo Economico affinché chiuda definitivamente tutti i procedimenti attualmente in corso relativi a progetti petroliferi ricadenti entro la distanza in questione lunedì è prevista la presenza dei governatori di Abruzzo e Molise Luciano D'Alfonso e Paolo Frattura al nuovo incontro sull'istituzione di un polo scolastico intercomunale tra le due regioni nella zona del Trigno la riunione alle 16.30 si terrà nell'area del santuario di Canneto a Roccavivara con i presidenti ci saranno altri amministratori regionali e comunali l'incontro segue la riunione che si tenne a Trivento sullo stesso tema lo scorso 24 ottobre a margine del confronto tra le due giunte regionali sulla problematica dello spopolamento delle aree interne parliamo ancora del mancato rinnovo dell'incarico di Don Francesco Martino all'ospedale di Agnone perché in tanti si sono schierati dalla parte del sacerdote parlando di una vera e propria rappresaglia nei confronti di chi si è battuto in difesa del caracciolo sentiamo Sergio Di Vincenzo Continua a far discutere e ad alimentare i dubbi il mancato rinnovo dell'incarico di Cappellano ospedaliero a Don Francesco Martino da otto anni a questa parte non è stato solo un punto di riferimento per i malati del caracciolo di Agnone ma anche uno dei più tenaci difensori della sanità in Alto Molise sui tagli all'ospedale ha sempre detto le cose come stavano documenti alla mano senza temere nessuno e attirandosi per questo anche qualche nemicizia in questi anni è diventato un personaggio scomodo per questo più di qualcuno ritiene che l'allontanamento dal presidio ospedaliero non sia stata solo una coincidenza lo pensano ad esempio i tassisti abruzzesi e molisani residenti a Roma promotori di mostre e manifestazioni in difesa del presidio agnonese nel sottolineare che Don Martino è stato e sarà un punto di riferimento per tutte le attività che prendono vita nel territorio alto molisano e alto vastese definiscono comunque sconcertante la notizia rimbalzata anche nella capitale chiedono chiarezza perché a loro avviso questo sostanziale licenziamento sa di rappresaglia significa che si è voluto colpire l'anticorpo invece che il virus dicono ancora i tassisti pertanto è necessario fronteggiare questa situazione con la forza più totale che si possa mettere sul terreno solidarietà a Don Martino è stata espressa anche da tanti cittadini e dall'università delle generazioni di Agnone attraverso il suo responsabile Domenico Lanciano fa appello alla regione alla ASREM al vescovo di Trivento perché si giunga presto a un accordo che salvaguardi la figura e il ruolo del cappellano spedaliero che in tanti anni di attività pastorale civile ha dimostrato di essere vicino assai generosamente ai sofferenti e alla gente di un territorio che rischia di essere depredato conclude Lanciano persino della dignità di esistere hanno rubato una moto a Larino e si sono diretti lungo la statale 16 per raggiungere la Puglia i due sono stati fermati dai carabinieri di Campomarino che dopo gli accertamenti sono risaliti al proprietario e quindi scattato l'arresto in flagranza per furto aggravato a carico di un giovane di 27 anni e di un altro di 35 entrambi residenti a Larino la loro posizione al vaglio dell'autorità giudiziaria Vincenzo Sullo è il nuovo dirigente del commissariato di polizia di Termoli si è insediato nei giorni scorsi a 44 anni ed è di Portici arriva dalla questura di Alessandria dove ha diretto l'ufficio immigrazione ha operato sul fronte dell'ordine pubblico al confine di Ventimiglia in provincia di Imperia durante l'emergenza immigrati dello scorso anno in Molise ha già lavorato nella questura di Campobasso come ispettore della Digos il Molise lo conosco ha detto ci sono già stato Termoli l'ho frequentata e conosco questa realtà dopo una partenza a rilento i commercianti auspicano un'accelerata per i saldi di fine stagione in questo fine settimana nel servizio del punto della situazione sugli sconti e gli acquisti delle famiglie in Basso Molise con Fabrizio Occhionero primo fine settimana di saldi in Molise chi può approfitta degli sconti per innovare il guardaroba il budget a disposizione varia per ogni famiglia negozi e centri commerciali sono aperti per accogliere i clienti abbigliamento calzature ma non solo si cercano le offerte migliori per comprare gli articoli che a prezzo pieno non sono accessibili a tutti e l'occhiata sul cartellino diventa d'obbligo prima di indossare il piumino atteso da mesi mi sono trovato abbastanza bene convenienza ci sta qualità anche budget quello che riesco a spendere più che altro intorno come si dice la paghetta settimanale da 100 euro 200 euro più di tanto non cosa vuoi fare anche se qua ci sta pure molta scelta tra l'altro entri per una cosa e ne esci con un'altra oppure ne esci con un'altra cosa ancora da dove arrivate? da San Salvo qui in Molise per i saldi? sì i miei acquisti cosa cercate? giacche cerchiamo un po' di sconto quindi comunque abbigliamento per rinnovare l'armadio pantaloni maglie quello che ci piace aspettato i saldi per rinnovare il guardaroba? sì abbiamo aspettato i saldi anche se avevamo più tempo magari durante le vacanze per andare in giro guardare però abbiamo aspettato qualche giorno in più è più conveniente sicuramente per noi c'è tutto sia nelle taglie anche perché chiaramente avendo una stazza un po' alta quindi normalmente c'è la difficoltà a trovare la taglia qui invece l'ho trovata subito la signora è stata velocissima a soddisfare i miei gusti vostro budget? 300 euro è andata bene ho trovato ciò che cercavo abbastanza velocemente anche perché sono andato su una marca conosciuta che io già indosso per cui diciamo che sono soddisfatto Donato Petrucci per voi che siete gli addetti ai lavori quali sono le impressioni dei primi giorni di Saldi? I primi giorni dei Saldi è stato un po' più tranquillo quest'anno però speriamo di poter recuperare questo fine settimana con i clienti affezionati e con gli sconti che ormai stiamo facendo dal 20-30 al 50% e anche con gente nuova che arriva da fuori quali sono le aspettative? Le aspettative io spero di poter recuperare anche perché quest'anno abbiamo avuto un fine anno un ottobre o un novembre con un tempo molto caldo e la gente comunque ha comprato solo nelle ultime settimane sotto Natale A causa di un falso allarme e bomba treni bloccati nel pomeriggio tra Vasto e Termoli la segnalazione è arrivata all'altezza di una galleria in territorio abruzzese dopo i controlli dei vigili del fuoco e degli artificieri che non hanno riscontrato pericoli la linea ferroviaria è stata riattivata numerosi e inevitabili i disagi per i viaggiatori adesso parliamo di un talento molisano che si sta affermando nel panorama della musica internazionale ci dice tutto Valeria Farina Giovane e talentuoso classe 1989 Paolo Colagrossi Campobassano è una promessa della musica internazionale un curriculum ricco e impegnativo per Colagrossi che ha studiato nei conservatori di Frosinone fino a quelli di Lowen in Belgio e di Amsterdam in Olanda il musicista vantaggia tante partecipazioni e concerti importanti e ci parla di come è nata la sua passione per la musica io ho iniziato a suonare la chitarra esattamente quando c'è stato il terremoto qui nel 2001 un po' per caso perché avevo paura e sono andato a Roma da mia sorella e lì insomma c'era mio cugnato che suonava la chitarra e quindi non sapevo che fare e ho iniziato a suonare Qual è la tua specialità? Io diciamo mi è capitato di suonare un po' di tutto adesso diciamo suono principalmente jazz Poi Melodie dal Mezzogiorno il tuo primo CD Sì questo è un disco registrato ad Amsterdam con dei ragazzi che ho conosciuto lì e sì diciamo è il mio primo lavoro discografico serio ed ora ti prepari a solcare l'oceano gli Stati Uniti ti aspettano in quale città andrai? Spero insomma di poter andare a New York e sì diciamo quella è la mia meta principale un CD all'attivo Melodie dal Mezzogiorno che descrivono i ritmi e le sonorità più intense delle corde di chitarra nove brani che parlano di sentimenti e del quotidiano e dopo quest'intensa formazione il giovane musicista si appresta ad approdare negli Stati Uniti d'America e a Boiano nell'ambito del cartellone del Natale in Solidarietà proseguono le iniziative per raccogliere fondi da destinare in beneficenza nelle immagini che adesso vediamo l'ottimo successo della rappresentazione il Varietà portata in scena al Teatro Comunale dalla compagnia amatoriale Sipario Sannita il cartellone che include oltre 20 eventi si concluderà domani con la buona novella il concerto di insegnanti e allievi dell'Associazione Musicale il Pentagramma Scuola di Musica Maestro Franco di Rienzo in programma alle 18 sempre al Teatro Comunale le iniziative sono state sviluppate grazie alla collaborazione tra l'assessorato e le politiche sociali del Comune di Boiano le realtà associative ed artistiche di cui è ricco il territorio matesino coinvolgendo anche le scuole e le parrocchie è tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti